Secondo me abbiamo fatto anche molto bene a parte i blackout di 10 minuti dell'inizio del secondo tempo. Nel primo tempo eravamo padroni su tutto il campo, siamo passati in vantaggio, potevamo anche incrementare il risultato. Poi c'è stato il rientro in campo, abbiamo preso il gol dopo due minuti su un calcio d'angolo e lì ci siamo disuniti, ci siamo nervositi. Non ho capito perché, continuavo a dire in panchina di stare calmi, di rimanere in partita e stare sul pezzo. Perché abbiamo giocatori davanti come Figo, Sanna, Mancoso, che lo stesso Grau ha portato in avanti, possono decidere in qualsiasi momento, anche con una pallina attiva. Sono un po' dispiaciuto solo per questo qua, per cui i blackout iniziali del secondo tempo e soprattutto per l'errata gestione del nervosismo, anche della direzione di gara. Possiamo anche essere non d'accordo sulla direzione di gara, però non in quella maniera plateale, soprattutto dispendendo tantissime energie nervose e fisiche contro una terna che poi, onestamente, avrà fatto sicuramente qualche errore, ma non era così eccessiva. Il calcio ero cambolisco, un pari molto amaro per voi? Sì, amaro perché credo che abbiamo espresso un buon calcio, abbiamo fatto quattro gol, però siamo arrivati molte volte davanti alla porta, con più e più di cattiveria, potevamo chiuderla prima e poi abbiamo preso due gol alla fine in quattro minuti che potevamo benissimo evitare. Sembrava fatto dopo il gol di Merlunghi, ma il seraggio non si è mai arresa. Quello sì, diciamo che ci siamo un po' accontentati, abbiamo un po' abbassato la guardia e siamo stati puniti. Il calcio purtroppo è bello per questo, partiamo, o meglio, ripartiamo dagli errori che abbiamo commesso per cercare di non farli più e per cercare di ottenere i più punti possibili.